Salvezza raggiunta senza passare per la lotteria dei play-out. Con 40 minuti di anticipo, la molisana Magnolia Basket Campobasso ha centrato l'obiettivo stagionale, la permanenza per il secondo anno consecutivo nel massimo campionato italiano di basket femminile. Nonostante il referto giallo conquistato sabato sul parquet di Ragusa, 71-60 il definitivo, le ragazze di coach Sabatelli hanno esultato. Intorno alle 19.40 è arrivato il finale tra Lucca e Bologna, con le Toscane che hanno perso 66-75. Nono posto matematico per le molisane, con un più 4 proprio su Lucca e una sola gara al termine della regular season. Il primo campionato di Serie A per le Magnolia terminerà domenica prossima alla molisana Arena con palla 2 alle 20.30. Da domani dunque si apre l'ultima settimana di lavoro per Marangoni e Soce. Neanche a dirlo, anche in Sicilia coach Sabatelli ha giocato con un roster ridimensionato, senza Sanchez e Ticvic con Voita fuori ruolo. L'americana è stata utilizzata da ala pivò. Gli infortuni sono stati una costante di questa stagione. Possiamo dire che la molisana Campobasso ha avuto un'avversaria in più, lei stessa. Questo però ha spinto lo staff tecnico a scommettere sulle più giovani. In questa stagione hanno esordito in Serie A Amatori, Falbo, Chignonez, Egwo e le ultime in ordine di tempo la Termolese del Sole e sabato a Ragusa l'ala slovena a Zala. Un pacchetto under che getta le basi per il futuro. La società ha investito sul settore giovanile e questo ha dato i suoi frutti. Una squadra allestita con nomi importanti. Giocatrici top player, Ostarello, Gorini nel giro della nazionale italiana, Ticvic in quella croata, per citarne solo alcune, che hanno dato peso ed esperienza alla squadra. Ma l'entusiasmo dei prospetti russo-blu è stato decisivo per mantenere alto il morale nei momenti di difficoltà. Sta andando in archivi una stagione anomala, fatta di gare senza pubblico e di tamponi molecolari. Un plauso va fatto ai tifosi della Magnolia, capaci a distanza di sostenere la squadra. I complimenti vanno fatti alla società, capace di gestire la questione sanitaria senza particolari preoccupazioni, applicando il protocollo e potendo contare sulla professionalità dei propri tesserati. Attenzione adesso a non abbassare la guardia. Domenica la Molesana Arena arriva Lucca. Se il nono posto è già matematico, c'è un altro obiettivo da poter raggiungere, il decimo referto rosa stagionale.